Oh, il mio oroscopo! Toro, oggi morirete. Cosa? E potrete ricevere un complimento da un collega amidico, Lenny. Dice proprio morirete? È insolitamente specifico per un oroscopo. È meglio che controlli il mio. Oggi vostro marito morirà. Oh, ne ho paura. Giornale allucinante, non farmi male, oroscopo! Me la sto facendo! Mi sono tagliato con la carpa! Oh, l'ho fregato! Stupido oroscopo! Stupido oroscopo! Stupido oroscopo! Homer, mi posso complimentare con te? Sì, dimmi. È un gran bel serpente a sonagli quello che ti sta mordendo il fraccio. Niente male, ciò, ma non hai paura della sua micidialità? No, fra un'oretta sarà stanco di mordere serpenti, rinunciatari della natura. Quello oroscopo era una buffala, non è successo niente tra nella picconata in testa, il morso di serpente e quella cosa al testicolo. Che c'è per dessert? Che c'è per dessert? Finché non mangi i tuoi broccoli. Un altro decesso dovuto ai broccoli. Ma credevo che i broccoli... Oh sì, uno degli ortaggi più mortiferi della Terra. Loro stessi tentano di avvertirti con il loro terribile odore. È più facile quando sono stecchiti così. È molto triste. Grazie molti.